Ciao formiche! Sicuramente si sentirà il vento, non mi sentirete benissimo. Comunque, come vedete, alle mie spalle qui, c'è la Scala dei Turchi. Per chi non la conosce, è vicino a Grigento. E niente, oggi sono qui, oggi lunedì, sono qui alla Scala dei Turchi, mi sto facendo il bagno. Come vedete, sono in mollo all'acqua, proprio, proprio a mollo all'acqua. E niente, purtroppo non escono molti video, tipo è una settimana che non faccio video, però purtroppo ancora non ho fatto sistemare il computer e quindi non ho modo di fare video. Oggi, stasera, dovrei andare a riprendere il computer, speriamo che il tecnico mi dia buone notizie. E niente, qua c'è la spiaggia, della spiaggia, e lì c'è la Scala dei Turchi. Ci sono già salito, ho fatto un paio di foto che sicuramente pubblicherò però stasera sulla mia pagina Facebook. Mi raccomando, seguite, mettete mi piace dovunque. Condividete, fate quello che volete e io mi vado a fare il bagno. Quindi, ci vediamo. Ciao!